Può far spegnere anche quelle? Ci sto lavorando. Chi ha preso la decisione? Tutti e due. No. Farlo per motivi tuoi o non farlo? Non lo conosci. So che non l'ha fermata. Se fosse mia... Non la dividerei con nessuno. Non ha diritto di giudicare David. È lei che deve comprare le donne? Lei pensa che devo comprarle. Perché me, allora? L'ho comprata perché ha detto che non poteva essere comprata. Non posso essere comprata. Dobbiamo solo scopare, se ho ben capito. Potrebbe piacerle. Non ci scommetta. Credo che lo farò. Testa ci piace. Croce lasciamo perdere. Giriamo la barca e torniamo a casa. Senza raccora. Che ne dici? È sua la decisione. È un dollaro fortunato. Non posso perdere. Non posso perdere. Mi creda. Non accaderà nulla che non abbia scelto lei. Non posso perdere. Bellino. Bellino.